Il mio primo romanzo, dopo una vita passata a scrivere sotto mentite spoglie, ho deciso con il mio sessantesimo anno di età di rendere nota anche questa mia veste ai miei amici pesaresi, non solo. Gate, il titolo, cominciamo da questo, cosa rappresenta questo titolo? Gate è un cancello, però non è il cancello di casa, non è neanche il cancello dell'aeroporto, ma è un cancello che io ho visto in Cornovaglia nello scorso anno durante una vacanza, ed è un cancello che apre a nuove avventure, a una vita diversa. A Pesaro questo Gate ha avuto già la sua presentazione in un luogo particolare come la Onlus Gulliver? Sì, ho deciso di farlo a casa, perché io mi sento a casa la Gulliver, in compagnia dei miei amici, poi in realtà si sono presentate un sacco di persone e non mi aspettavo questo successo, tant'è che a maggio andrò alla Fiera del Libro a Torino, mi hanno invitato e quindi sono contenta di questo piccolo successo, perché tutti lo leggono, sono 30 pagine e rimangono così ben sorpresi, lo accolgono bene insomma. Dove i pesaresi potranno trovare Gate? Allora, attualmente solo alla Onlus Gulliver, perché l'ho stampato io, ma sto aspettando l'ok del mio editore, dopodiché vi renderò note altre cose, questo dopo la Fiera di Torino.